Il potere della guarigione Il silenzio delle stelle attraverso Clodet La luce ti può trasformare in un essere molto potente. Emanando luce il potere della guarigione si trasmette. Il potere dell'amore rimbalza di corpo in corpo, creando un anello vibrazionale molto potente. Dissetati alla fonte e trasmetti quello che senti. Mettiti in concentrazione ed emana la tua gioia. Il tuo padre spirituale